Si chiama Respect ed è la prima personale di Antonio Gibotta, trentenne pluripremiato, fotografo napoletano. In mostra al Palazzo delle Arti di Napoli, 140 scatti, momenti storici e storie di grande impatto mediatico ed emotivo, come le scene della battaglia degli infarinati di Alicante in Spagna o il dramma dei migranti bloccati in Serbia. Il messaggio che voglio mandare con questa mostra è il rispetto verso l'essere umano. Questo è quello che io voglio, rispettare l'altro, rispettare il prossimo, rispettare le tradizioni, rispettare le persone che danno la vita per arrivare in Europa, le culture, le culture diverse dalle nostre, come il Festival di Oli, il Festival degli Infarinati. Nei saluni del PAN sarà possibile visitare anche la sezione dedicata al progetto Riscatta l'obiettivo, le più belle foto dei 15 studenti dell'Istituto Francesco Morano di Caivano, che hanno partecipato all'iniziativa promossa da Canon, guidati proprio da Antonio Gibotta. L'Istituto Francesco Morano di Caivano, essendo una scuola sempre aperta, nel periodo di giugno e luglio, invece di far stare i ragazzi in giro per le strade, stavano con me facendo questo progetto insieme ed è nata una cosa molto molto bella. È stato esposto a Lucca Digital Photo Festival, è stato esposto qui al PAN e ci sarà ancora poi un'altra mostra a Roma.